L'assessore ci ha presentato la rete di riordino del piano di emergenza Covid soltanto mezz'ora prima dell'inizio della commissione, per cui abbiamo avuto anche difficoltà nel poterlo leggere e poterlo studiare. Di fatto è un piano dove c'è poco da aggiungere, poco da dire, visto che domani comunque verrà presentato a Roma. È evidente che è un piano dove rivolge risorse soltanto a idea di primo livello, per cui il mio territorio, cioè l'ospedale di Sulmona, in questo momento non avrà risorse e fondi, ma soltanto una piccola quota che è uguale per tutti quanti i prodotti di soccorso per l'adeguamento e per le misure di emergenza e di sicurezza per il Covid. Quello che ho chiesto all'assessore Verì in realtà è di venirci a parlare della sanità regionale, una sanità che è completamente allo sbando, non esiste un piano della rete ospedaliera, abbiamo bisogno invece di capire cosa hanno in mente, cosa vuole fare questa maggioranza in merito alla rete ospedaliera della regione e Abruzzo, ed ho anche sottolineato all'assessore Verì che piuttosto che andare a parlare di sanità marsicana in una conferenza stampa di un candidato sindaco leghista, era opportuno che ieri venisse invece nelle due manifestazioni pubbliche a Pescino e Tagliacozzo e lì, di fronte a tutti quanti i cittadini, venisse a parlare della situazione della sanità marsicana. Questo è un atto grave, una mancanza di rispetto. Spero che questa maggioranza si renda conto dei gravi danni che stanno facendo all'Abruzzo intero.